Ben trovati al Tg6 dell'Aquila. Oggi apriamo parlando di consiglio regionale. Filippo Tronca nel servizio di apertura ci fa il punto della situazione di ciò che è accaduto in mattinata. Al centro del consiglio il progetto di legge per la nuova Pescara. Sentiamo. Nuova Pescara, ovvero un nuovo grande comune che nascerà dalla fusione tra Montesilvano, Spoltore e appunto Pescara. Questo è il piatto forte del consiglio regionale di oggi con l'approdo in aula del provvedimento a firma del consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Dopo 17 mesi dalla proclamazione del risultato del referendum che registrò una partecipazione plebiscitaria dei cittadini dei tre comuni e con la vittoria netta del fronte del Sì. Ma a due giorni anche dal no secco del comune di Spoltore che teme di essere fagocitato nel processo di aggregazione. Difenda spadatratta, come ovvio, il provvedimento mercante. La fusione spiega la vigilia del consiglio porterà taglia alla spesa pubblica dei tre comuni, riduzione di tasse e tributi, risanamento dei bilanci comunali. Nascerà un polo metropolitano capace di competere con le grandi città della dorsiala adriatica. La PDL è stata nei cassetti per parecchi mesi, si è arenata in commissione, forse volutamente, da parte della maggioranza. Oggi arriva in consiglio e ci sarà una resa dei conti. Vedremo se effettivamente questa maggioranza e D'Alfonso rispetteranno quella che è stata la volontà popolare espressa il 25 maggio del 2014. Chiamate la legge mercante Sospiri, tiene a sottolineare il capogruppo di Forza Italia, Lorenzo Sospiri, appunto, che ha ritirato un suo provvedimento molto simile ed è pronto a votare quello del 5 Stelle. Ora, noi riteniamo che per rispondere alle sfide su base europea e nazionale occorra una dimensione metropolitana. Questo è per il master plan, questo è per i fondi per le opere pubbliche. Quindi riteniamo che questo processo sia rivolto al futuro. Ma come la prendono gli esponenti di maggioranza in particolare espressione del territorio aquilano, la nascita di una grande città metropolitana sulla costa? Nessun problema, sottolinea il vicepresidente di Giunta Giovanni Lolli, aquilano e del PD, ma con dei ma che potrebbero anticipare un iter non certo liscio in aula del provvedimento. Non ho mai nessun pregiudizio, meno che meno verso Pescara, che è l'unica città abruzzese veramente non campanilista, nel senso che ai pescaresi proprio veramente non gliene frega niente del campanile. Ora, non avere una metropoli, secondo qualcuno può essere un limite, secondo qualche ad un altro, io appartengo a questo qualche ad un altro, invece è una cosa positiva. Non è vero che la metropoli determinano un miglioramento della qualità della vita. Noi siamo una regione particolare e io manterrei questa particolarità. E ora torniamo a parlare dei precari del Comune dell'Aquila. I sindacati ricorrono al Tarra. L'idea del bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria utile per l'assunzione, lo ricordiamo a tempo determinato di 14 educatori per gli asili nido di gestione comunale, non piace ai sindacati che annunciano il ricorso al Tarra. L'obiettivo è bloccare questo bando. Ci dice tutto Giorgio Alessandri. Nonostante il nodo dei precari sembra sia stato sciolto, grazie agli emendamenti alla legge di stabilità che garantiranno la proroga dei lavoratori del Comune dell'Aquila e del Cradere fino al 2017, le polemiche dei mesi scorsi non sono del tutto andate in soffitta. Tra i lavoratori a casa da fine settembre, infatti, oltre a quelli della ricostruzione e di altri settori dell'ente, vi sono anche quelli del sociale e le maestre degli asili nido del capoluogo, per le quali sembrava non esservi più speranza di rinnovo. Per questo il Comune aveva indetto un bando di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria utile per l'assunzione a tempo determinato di 14 educatori per gli asili nido di gestione comunale. Un'idea che non è piaciuta ai sindacati, che hanno annunciato ricorso al TAR per bloccare il bando. Una sorta di risposta a quei dirigenti che si erano apposti alle proroghe dei contratti, supportati anche da una parte della politica locale. Beh sì, ci aspettiamo che una volta varata appunto la legge di stabilità si possa finalmente procedere a quel rinnovo che noi ritenevamo si potesse fare anche precedentemente, ma credo che a questo punto il testo della legge di stabilità non permetta più dubbi. abbiamo in tal senso avuto rassicurazioni dalla parte politica, non abbiamo dubbi che questa cosa finalmente convinca anche la parte tecnica del Comune dell'Aquila che era stata reticente finora. Beh, abbiamo avuto uno sconforto, però nello sconforto siamo stati anche determinati nel voler portare avanti questa cosa. Abbiamo anche, siamo come dire, ci siamo regolati anche con azioni legali che vedrete nelle prossime, nei prossimi giorni, perché abbiamo ritenuto che il comportamento da parte di taluni dirigenti del Comune dell'Aquila non fosse ossequioso rispetto a, diciamo, la continuità anche dei servizi, per cui ritenevamo che il rinnovo, lo riteniamo ancora, fosse l'unico strumento anche sulla base dei pareri che erano stati emessi che permetteva sostanzialmente da un lato, sì, sicuramente il ristoro ai dipendenti, nel senso come continuità del lavoro, ma certamente la continuità in termini di servizi. Non dimentichiamo che due esili nido su tre, io insisto, su questo ancora oggi sono chiusi e rappresentano invece una tradizione molto positiva del Comune dell'Aquila. E ora la cronaca. Automobile in fiamme questa mattina in Via Panella. Per cause ancora in corso di accertamento, un'automobile ha preso fuoco ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco dell'Aquila che hanno la caserma proprio lì vicino, rallentamenti notevoli alla circolazione, in quanto è stato istituito momentaneamente dalla Polizia Municipale per permettere ai vigili del fuoco appunto di fare il loro intervento, il senso unico alternato nella strada che va dal cimitero dell'Aquila alla questura del capoluogo di Regione. Dai banchi di scuola all'azienda, firmato oggi il protocollo d'intesa tra Confindustria e l'ufficio scolastico regionale per la realizzazione di percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro. Filippo Tronca ci racconta tutto nel prossimo servizio. Armonizzare anche in Abruzzo il sistema scuola e il sistema impresa con percorsi di formazione nei luoghi di lavoro e di produzione di 400 ore nel triennio per istituti tecnici e professionali e di 200 ore per i licei statali. Questo è il contenuto saliente del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale Ernesto Pellecchia e dal presidente di Confindustria Agostino Ballone. L'obiettivo di questa alternanza tra banco di scuola e apprendistato in azienda previsto dalla legge 107 del 2015, ovvero della buona scuola, è stato sottolineato più volte e rappresenterà un'opportunità per individuare talenti che potranno integrarsi negli organici aziendali e servirà a preparare una generazione di giovani che avranno meno difficoltà a trovare lavoro o terminati gli studi. Del resto l'integrazione della formazione scolastica teorica con la pratica delle aziende, che qui in Italia è ancora la fase embrionale, in Germania per fare solo un esempio è un percorso consolidato da mezzo secolo e contribuisce in modo determinante, confermano molti studi, alla solidità e competitività del sistema produttivo tedesco. C'è stata una maggiore attenzione da parte dei legislatori verso queste esperienze di alternanza scuola-lavoro e conseguentemente da parte delle scuole c'è un maggior onere dal punto di vista organizzativo, dal punto di vista degli attempimenti, ma anche dal punto di vista delle opportunità, perché attraverso questa valorizzazione di questi percorsi si riesce a sviluppare ulteriormente il soggetto forte in modo più efficace quello che noi definiamo rapporto scuola-mundo del lavoro. Le aziende andranno a stipulare convenzioni dirette sulla base di questo protocollo con i singoli istituti e quindi si andrà a fissare quelli che saranno i momenti di formazione dei ragazzi. Quindi questo è un po' in sostanza, come sa, la formazione avviene sui tre cicli scolastici dalle terze, quarte e quinte, quest'anno si parte con le classi delle terze superiori naturalmente con un monte ore di 200 ore a ragazzo, quindi insomma sono anche orari impegnativi per cui c'è da lavorarci sopra. Parliamo di università, arriva alla fase finale della Business Plan Competition, il percorso guidato verso l'imprenditorialità promosso dall'incubatore virtuale d'impresa l'Aquila Cube con la missione di quattro progetti di start-up presentati da team composti da studenti, ex studenti e ricercatori dell'Università degli Studi dell'Aquila appartenenti ai diversi settori tecnologici. I quattro progetti ammessi sono i seguenti, Meteo App che fonda le sue basi sulla implementazione del no-casting, una tecnica innovativa di previsione meteorologica a breve termine, poi c'è LMAB, Electronic Move Abruzzo, un car sharing totalmente ecologico con lo scopo di favorire e implementare la mobilità ecologica e sostenibile, poi c'è EFI, un software in materia di efficientemente energetico attraverso il quale il consumatore può avere un riscontro immediato sul posizionamento dei propri consumi e anche la possibilità di valutare gli interventi per conseguire un risparmio. Infine MILF, macchinari agricoli per lavori faticosi che ha l'obiettivo di sviluppare, produrre e commercializzare i macchinari agricoli innovativi, in particolare nella raccolta dello zafferano, nostro prodotto di eccellenza. Questi risultati ha commentato il presidente della Fondazione dell'Università dell'Aquila, il professor Ferdinando Di Orio, dimostrano l'efficacia di un'azione finalizzata alla creazione di importanti opportunità di collegamento tra l'Università degli Studi dell'Aquila e il mondo produttivo, per lo sviluppo in particolare dell'imprenditoria giovanile del territorio Aquilano. Ora apriamo la pagina legata allo sport e parliamo in particolare dell'Aquila Calcio, con la ripresa degli allenamenti che c'è stata oggi dopo l'ottimo punto ottenuto a Macerata. La testa è già alla sfida interna di domenica alle ore 14 allo Stadio Fattori contro il Prato. Acquisti a gennaio, il DS Alessandro Battista non si sbilancia, stiamo valorizzando intanto dice giovani i nostri giocatori che potranno fare sicuramente la differenza in campo. Il servizio. L'Aquila Calcio si gode il momento positivo, ma sa bene che tanto c'è ancora da fare. Dopo l'ottimo punto ottenuto a Macerata contro una delle formazioni più in forma del torneo, la squadra di Mister Perrone oggi è tornata sul campo per gli allenamenti. Obiettivo continuare la scia positiva anche domenica al Fattori contro il Prato. Dopo, in settimana, venerdì sera, trasferta a Siena. Un buon momento, dicevamo, caratterizzato dalla crescita di alcuni giocatori rosso-blu. Merito del tecnico Carlo Perrone, che sta riuscendo ad interpretare al meglio le gare e a valorizzare gli uomini a disposizione. Gennaio si avvicina e probabilmente, come annunciato dal presidente Corrado Chiodi, qualche acquisto si farà, ma stando attenti a non minare gli equilibri di un buon spogliatoio. Il direttore sportivo Alessandro Battisti è soddisfatto del rendimento della sua squadra, ma di acquisti per ora non parla. Valorizza invece anche lui giocatori come Cosentini, Milicevic e Ceccarelli, che possono rappresentare, ovviamente insieme a tutti gli altri, la forza di una squadra che, anche addetta della tifoseria rosso-blu, sempre presente, sta diventando sempre più squadra. Impegno e grinta, infatti, non sono mai mancati e l'abbraccio della curva ai suoi giocatori dopo macerata è il segno che le cose cominciano a girare. E ora parliamo di pallannuoto femminile. La nazionale ad Avezzano, la sfida con la nazionale francese, ha un sapore sicuramente particolare dopo i fatti di Parigi, un qualcosa che va al di là della semplice competizione sportiva, solidarietà alla Francia e ci si aspetta un pubblico delle grandi occasioni. Sentite. Dopo le trasferte in Olanda ed Ungheria, la nazionale italiana di pallannuoto è pronta per il suo esordio in casa, nel centro federale Unipon Blue Stadium di Avezzano. Sfida la nazionale francese nell'ambito del torneo internazionale World League e cerca la prima vittoria. Scortate da un intenso servizio di sicurezza, le atlete del Sette Rosa, insieme ai rappresentanti della squadra francese, hanno fatto il loro ingresso ieri nel comune di Avezzano, dove nel corso di una conferenza stampa è stata presentata la partita che sarà trasmessa sul Rai Sport. Essere solidali e fare gli interessi di tutta la comunità, ha dichiarato il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio, in relazione ai fatti di Parigi dei giorni scorsi, è l'obiettivo della partita che mira ad unire i cittadini e ad emarginare quegli individui che tentano di destabilizzare la nostra identità comune, unita sotto il segno dell'Europa. Noi vogliamo la pace, ha detto Di Pangrazio, e questa competizione è dedicata a quest'idea ed è contro ogni forma di terrorismo. Nel corso del suo intervento il commissario tecnico degli Azzurri, Fabio Conti, ha sostenuto che i personaggi dello sport si contraddistinguono sempre e la semplicità di queste ragazze che svolgono un'attività poco remunerativa per il duro lavoro che fanno dovrebbe far riflettere. Il nostro compito, ha sottolineato, è dare un esempio positivo alla collettività. In occasione di questa partita si terrà anche una lotteria di beneficenza, il cui ricavato andrà a sostegno della Lega Italiana contro la lotta ai tumori, la Lilt. Siamo contenti intanto di poter avere questa opportunità di ospitare la Francia in questo momento. È impossibile non pensare a tutto ciò che è successo. Credo che vogliamo provare a dare nel nostro piccolo un esempio della possibilità che si può competere comunque anche rimanendo in pace. È un piacere comunque essere qua da Avezzano che ci ha sempre spiegato, ci ha fatto sempre stare comunque bene. Spero che la piscina come al solito sarà piena. Oggi e domani, 25 novembre, l'ordinario militare per l'Italia, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Santo Marcianò, in visita pastorale presso la comunità militare della città dell'Aquila. Ad accogliere l'ordinario militare ci sarà il cappellano Don Claudio Rechiuti e un picchetto armato del nono reggimento alpini. Nel corso delle attività pianificate in questi due giorni, Sua Eccellenza incontrerà il comandante militare dell'esercito per l'Abruzzo, il generale Rino De Vito, il comandante della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza, il generale Carbone, il comandante del comando regionale della Guardia di Finanza Flavio Agnello e il comandante del nono reggimento alpini, il colonnello Sedia. In particolare l'ordinario militare terrà anche un importante lezio magistralis presso l'auditorium della scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza. Un nuovo appuntamento per cinema e psichiatria è in programma per la giornata di domani, mercoledì 25 novembre alle 17.30, presso la multisala Moviplex dell'Aquila. Il numeroso pubblico presente potrà assistere alla proiezione del bellissimo film Le conseguenze dell'amore di Polo Sorrentino, una pellicola italiana del 2004. Ospite di grande rilievo per la giornata di domani la giornalista Rai del Tg1 Adriana Pannittieri, presente all'Aquila ormai per il terzo anno consecutivo all'interno del programma di cinema e psichiatria. Al termine del film è previsto inoltre il consueto contributo scientifico con l'intervento del dottor Lorenzo Annecchini. Un calendario particolarmente interessante, quello previsto in realtà per questa settimana, venerdì 27 novembre, presso la nuova attività commerciale Gusto. Ci sarà il reading di letteratura scritto sul corpo di Janet Winderson, delle Mondadori, con gli interventi della dottoressa Tiziana Pasetti e dottor Vittorio Sconci. Sabato 28 novembre invece è prevista una proiezione mattutina al Moviplex per i seduti scolastici cittadini con la proiezione di orgoglio e pregiudizio di Joe Wright, con il commento del dottor Vittorio Sconci, psichiatra. Bene, con questa notizia termina il Tg6 dell'Aquila. Io vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione. Vi invito a rimanere sintonizzati su TV6 per la nostra consueta programmazione. Arrivederci! Grazie a tutti!